come vi avevo detto due parole sul mio nuovo delta jf non mi sto a dilungare tanto è un pacchetto veramente 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 solido ottimo potrei parlare di tutte le sue caratteristiche ma mi preferisco limitarmi a quelle essenziali a quelle che interessano a noi pescatori mi avete visto pescare sono 6 7 ore che sono seduto su un panchetto non ho assolutamente risentito la stanchezza mal di schiena i ginocchi è veramente confortevole al massimo ma non solo è di una stabilità estrema una stabilità che difficilmente riscontrabile si può riscontrare in altri panchetti anche grazie ai suoi piedi in metallo fissi che hanno una grip eccezionale su ogni fondo oggi noi siamo su una banchina per cui i problemi di vetto genere non ci sono ma se fossimo stati sui sassi di aria sul fango del corbara o in qualsiasi altro posto avremmo certamente avuto possibilità e modo di apprezzare le caratteristiche di stabilità di vetto panchetto è veramente una stazione di pesca come ho avuto modo di dire una solidità estrema e una stabilità eccezionale io sono un quintale un centello sondo sondo per cui questo già vi deve servire a capire dove sono seduto sono seduto su un blocco unico ricordatevi le caratteristiche di un paniere non sono solo quelle di portare chissà cosa dietro con noi ma di avere una stabilità e la sensazione di sicurezza laddove la sicurezza è importante